La chiamavano e la chiamano ancora oggi Nicolina Lalattara. Chi non la ricorda, Dariano Irpino, con quel recipiente in alluminio in giro per le case a distribuire latte negli anni del dopoguerra, quando la povertà si faceva sentire in tante famiglie arianesi. Un mestiere d'altri tempi e oggi il traguardo dei suoi cento anni non è altro che il giusto premio ad una vita basata principalmente sull'onestà, rettitudine, ordine e precisione stile militare, tanto da essere soprannominata la tenente. E' il sindaco Domenico Gambacorta a consegnarle una pergamena a ricordo nel giorno della grande festa. Maria Nicola Di Gruttola, 27 settembre 1916, 27 settembre 2016. Signora, altri cento anni? Auguri, auguri. Come sono stati questi cento anni? Beh, grazie a Dio. Un po' buono, un po' buono, un po' ammalamento. Auguri. Grazie. Vai per vino. Auguri.